Ciao, sono Mattia Tafuro, Master Crystal Nails. Nel video di oggi vi presenterò l'ultimo arrivato nella famiglia delle basi compact, la base compact Milky White 2. Queste basi sono basi semipermanenti adatte sia come base per i costruttori, ma anche per realizzare piccoli rinforzi sulle unghie più fragili e per leggere allungamenti o riparazioni. Hanno una grappa estremamente efficace sull'unghia naturale, anche semplicemente preparando l'unghia con buffer e no buffer scrub. Base compact Milky White 2 è caratterizzata da una densità piuttosto accentuata. La colorazione bianca lattiginosa è maggiore rispetto alla versione Milky White già presente in catalogo, la base risulta quindi più pigmentata. Il colore compatto darà una coperenza ottimale, anche in strati estremamente sottili. Vi consiglio una doppia stesura per camuffare completamente lo strato sottostante e quindi anche l'eventuale unghia naturale della nostra cliente. Potete vedere adesso come in uno strato sottile base compact copre perfettamente il colore sottostante della nostra display tip cover pink. Ho utilizzato base compact per creare una piccola nail art. Ho applicato uno strato sottile, ho poi applicato delle scagliette in foglia oro, sigillato con Mattever e realizzato una nail art in superficie con R12 e Zero Short. Troverai le nostre basi compact in moltissime colorazioni in tutti i nostri rivenditori oppure ordinando direttamente dal sito www.crystalnails.it Spero che questa base ti sia piaciuta. A presto!